Andai ora con donna, non piangere più che non ritorna, il tuo figlio andai ora con donna. Il pianto di Maria voglio dirvi, buoni voti stati ma sentiti. Una cosa ti voglio domandare perché tanto è soggio che figlio mi hanno sentito, e danni i figliati che non so niente, salve per i miei cantoloni, ti raccomando a stagli per i cattori. E quando Gesù si va a ripartire, la tua madre si è messa a pallare. Benediccio Mario voglio andare, Benediccio Mario voglio andare, che tutte le te vogliono andare via, la Santa Nostra la voglio passare. Qualche madre perde un suo figlio, morire ne lo vedo nel sole, Maria lo perde sopra una croce, tutti i maltrattori e i maltrimenti. Se la perdura è come posso fare, mi andendo a me ne vado per la vita, quello mi va rovito sì, la di final che non so niente, Dalla per i miei cantoloni, raccomando a stagli per i cattori, Guardi Gesù si va a ripartire, la tua madre si è messa a pallare. Brava! Brava Duretto, bravissima! Guardate la posa, io se prendo la sede non ce la faccio a cavallare le gambe. Quanti anni avete signora? Ti apropo con te non me. Io faccio dare auguri a Peppi, la canzone di Peppi, auguri, ecco qua, dove è Peppi. Quanti anni avete? La canzone. No, voi, quanti anni avete, non la canzone. Quanti auguri a te. Quanti anni avete? Quanti auguri a te, tanta cura, anche tanta cura, mamma mia, tanta cura a te. Quanti anni ha la signora? Quanti anni avete? Quanti anni avete? Maria. Dove ne ha la signora? Quanti anni avete? Quanto è la gente straniera che guarda la bella romana, senti in cuccia di primavera, senti che il cuore si son, mentre con l'uno l'incontro, questa canta voglia mangiare, lasciatevi cantare la bella romanina, ma tu ti fai cantare, mentre cresca, va a provare la scossa con la ginastia, la bella romanina, lasciatela cantare. Brava! Ragazzi, ragazzi, la signora è andata a dormire perché ha 91 anni, 91 anni, pensate, lui è Guidone. Ehi, non lo conoscete? Domandatevelo al vescovo chi è. Sono con la miglia di Raffaele, è finito. Ehi, Guido, vuoi accompagnare la signora? Sono con la miglia di Raffaele. Guido, vuoi accompagnare la signora Lucita? Dici a... Arrivederci, signora. Un applauso.